A meno di sei mesi dall'inizio dei lavori, 290.000 euro di spesa e qualche polemica iniziale dei residenti per gli inevitabili disagi dovuti al cantiere, finalmente e con un risultato finale da fare invidia alle strade più belle d'Italia, ieri apertura ufficiale di via Garibaldi che come il suo illustre intestatario unisce due zone, quella est della città con il centro storico. Illuminazione a led di ultimissima generazione ed estensione del selciato anche alla careggiata centrale con un risultato finale che ricompensa dei sacrifici che i residenti hanno dovuto sopportare in questi mesi. Alla cerimonia inaugurale il sindaco Seri ha assistito all'accensione anche del secondo albero della città che carica ulteriormente la strada di atmosfera e fascino. Quello che mi piace sottolineare è che è il nuovo corso di questa amministrazione che vuol dare un nuovo volto a una Fano straordinaria da un centro storico di grande potenzialità e è una tappa del percorso di riqualificazione che Fano attraverserà. Grande soddisfazione anche per i tecnici e la dita che ha lavorato perché effettivamente è diventato un salottino. Un salotto, un bel ingresso della città. Prima era una cartolina impresentabile, oggi è una bella cartolina che possiamo presentare ai nostri concittadini ma soprattutto a coloro che vogliono entrare nel nostro centro storico. I tempi di consegna sono stati rispettati dall'azienda appaltatrice che aveva preannunciato l'arrivo per Natale del regalo ai suoi abitanti di una strada libera dal cantiere e così è stato, cosa non da poco per una strada che ha subito varianti in corso d'opera e ha stravolto positivamente la prospettiva della zona valorizzando molto anche gli immobili che vi si affacciano. È una strada importante, è un ingresso della città, una strada che permette anche di vedere il mare quassù, è un ingresso al centro storico che veramente ci inorgoglisce. Abbiamo recuperato un pezzo di città all'abbandono, gli abbiamo dato un valore, siamo molto contenti e speriamo siano contenti anche i residenti, i commercianti e tutti con cittadini che da oggi potranno entrare in città in un modo nuovo, molto più bello, molto più caratteristico.